Ciao a tutti, visto che era da tempo che non facevamo il video di qualche anno, esattamente, abbiamo preso queste 5 bustine, 2 di uragano plasma, 1 di guadagnia dei cristalli e 2 di platino. E iniziamo, queste 2 a destra le apri tu e questa qua la apri. Iniziamo con la prima di platino. Negli ultimi mesi ne sto trovando un sacco di platino, invece non trovo più, richiamo delle leggende. Non so come si fa il trick di questa qua, proviamo così, vediamo. Si vede? Si. Bullpix, Taurus, la reverse, la rara bellina, uno slake in golo, non le colleziono questi set, poi le scambieremo. Vedo sempre io o vuoi fare tu? Eh no, lo tirò tu. Ok, allora questa qua la apri per l'ultima. Mamma mia, quanti grati saranno? Venti, questa qua devo aprire io, giusto? Così si è fatto che 2 di platino. Quindi il trick non era così, era sbagliato. 4. 4. Tu ne fatti 3 prima? No, 2. Allora è 3. Adesso, non so. Abbiamo, Grovile, Pelipper, Riprisse di energia, Snorant, Electrike, Kabuto, Wingull, Shinx. Uh, bello, Archeus. Uh, beh, queste ci sono tutte quante le energie. Questa è la versione metallo. Uh, bellino. È il primo di questi Archeus. Ah, ci siamo, vabbè. Ed è la prima e l'ultima poi. E poi toccate. Cresceva cosa di bello da, ancora là, guardarne dei cristalli. Codice. Visto? Sì. Visto? Non ci sa niente, come al solito. Rotom. Coffee. Squadlun. Kitty. Chabchoo. Cabchoo, forse. Schregghi. Sacchetto. Patrat. Timbur. E il settimo Wizzing olografico. Vai tu. Vai a prenderla. Senti, quando andiamo a Napoli, troviamo tutta quella pila di queste gussine di orecano plasma. Uno scorso. Quando andiamo a Napoli, oh? Non mi ricordo. E se avresti quella capata, so già. Ah, sì. Allora, andiamo a Napoli e troviamo tipo 7-8, facciamo tutte le edicole, ti ricordi? Sì. E troviamo 7-8 bustine. Come si lasceva 4? 3, 3, 3. 7-8 bustine di questo set, organoplasma. E su 8 bustine ne uscivano 3. Dark Wizzing olografico. Cioè, assurdo. Tu non dico di niente perché faccio te la capata, secondo me. Dorsi. E si è fatto rimuovere tutto. Uh, scambio pazzo. E il quinto scambio pazzo. E Sherrym. Mmm, bello. Vabbè. Sì. Vabbè. Ultima bustina. Questa è la più bella di tutte. La, 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 la. Guardi le bambini di cristalli. Questi sono proprio vecchi i bustini. Cioè, sono proprio raro, trovarli. Eh? l'apertura chirurgica non so com'è qua il trick ma qua non ci sta il coso no non ci sta il coso non lo so com'è oh che bello questo scritto aspetta aspetta ok vai electric trigo oh si è uscita l'ombra forse l'ha fatto bene il trick oh questa qua è quella dopo ma si ma che schifo sembrano questi rari puzzolenti questo è più bello oh burbasauri vabbè ci è uscito comunque qualcosa va bene un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao